Questo lavoro è il risultato di una ricerca, di una riflessione sugli ultimi tre anni. Io praticamente ho visitato il MIT nel 2020, durante l'apertura, e poi c'è stata una chiusura dovuta al Covid. E ovviamente, sapendo che c'era uno spazio dedicato all'arte digitale a Milano, io avevo in mente di fare una mostra con quello per cui sono più noto e quello che faceva più parte della mia ricerca, che era la realtà virtuale. Ho incominciato a vedere anche tutte le gallerie che erano chiuse, che cercavano di avere una presenza online, e quindi di crearsi queste stanze virtuali, che poi alla fine adesso vengono chiamate metaversi, però due anni fa il metaverso non era così di moda. E quindi praticamente questa mostra è un'esperienza che tocca tutto un percorso tra il mio passato di artista tradizionale, per arrivare a questa visione del mio metaverso, passando attraverso un'esperienza che fosse pensata apposta per essere un po' ludica, come spesso succede nelle mie mostre. Quindi c'è un po' di gamification che sfrutta proprio le caratteristiche tecniche della stanza. Questa mostra non è un prodotto, è semplicemente un frutto di una ricerca che è continuata fino al momento in cui l'ho realizzata, e fino a questo momento è stata un'evoluzione che è stata proprio plausibile grazie a un continuo riscontro e interazione con il mio. È un'opera trasversale, parte dalla pittura e ritorna alla pittura. La pittura come metafora, metafora in questo caso del mio mondo, che però può essere applicato a qualsiasi vita umana. Si parte da una convenzione, da un modo di fare, da una cosa a cui siamo abituati, si va poi in questo viaggio addirittura in altri mondi e poi si ritorna fondamentalmente arricchiti nello stesso punto dove si era iniziati per ricominciare un altro viaggio. Quello che si vede che scorre penso in maniera abbastanza fluida in realtà è frutto di un lavoro molto complesso dal punto di vista tecnologico. Io partendo appunto dalla pittura sia come simbolo sia come proprio formazione, io ho voluto comunque creare questi mondi digitali tenendo ben presente proprio il gesto pittorico. All'inizio eravamo partiti con il team di sviluppo che mi ha dato una grossa mano per realizzare questa installazione dall'idea di creare proprio uno shader, tecnicamente si dice così, comunque una sorta di algoritmo che potesse dipingere, sembrare fondamentalmente la cosa digitale il più analogica possibile, il più vicina alla mia pittura. Quindi abbiamo optato per fare un mix tra arte generativa, per quanto riguarda tutte le ombre dei palazzi che sono costruite, come le avrei dipinte, con un mix con texture dipinte a mano. Il tutto praticamente è un'esperienza che penso che sia il più vicino possibile a un'opera dipinta digitale. Io penso che la tecnologia, soprattutto le tecnologie digitali, ultimamente hanno avuto un nuovo rinascimento con l'avvento soprattutto della tecnologia degli NFT, un sacco di creators che erano alla fine semplicemente dei creatori digitali ma magari al soldo di delle agenzie o di delle case di produzione si sono riscattati come artisti perché in realtà avevano una tavolozza molto più complessa di software e si pensi per esempio ai concept artist, il concept artist ha una formazione sia da regista, sia da sceneggiatore sia da scenografo e ha anche tutte le capacità proprio da artigiano per poter compiere l'opera d'arte quindi io penso che c'è un modo diverso, magari meno romantico di vedere l'artista perché il legame con la tecnologia è sicuramente nell'immaginario collettivo meno romantico del pittore con la sua tela, nel suo studio che con il profumo degli oli e con la modella magari di cui si innamora, a cui scrive una letterina al bar sul fazzoletto è molto meno romantico di questo ma è contemporaneissimo io penso che l'artista di oggi si deve confrontare con le tecnologie di oggi ho cercato di fare una mostra che abbia più livelli di realtà proprio tra realtà, realtà virtuale, realtà digitale ci sono questi piani di realtà che vorrei che si confondessero e di fatti ho ricreato anche la stessa mostra all'interno di una scatola di cartone in miniatura che in realtà è l'unica cosa vera, è l'unica cosa tangibile e in realtà è quella meno immersiva e ho pensato anche a chi guarda le mostre oggi e quindi chi fotograferà la mostra dal vivo e chi fotograferà all'interno della scatola si creano queste due realtà che sono paradossalmente invertibili e mi è piaciuto molto giocare su questa cosa sono proprio curioso di vedere che cosa succede poi anche a chi fruisce la mostra senza poterla vedere semplicemente vedendo le foto che fanno gli altri